Come ogni venerdì, eccoci l'apituale appuntamento con TG Tech. Questa settimana importanti notizie. Apple ha dominato le news nel corso degli ultimi giorni, ma anche l'IDF di San Francisco ha portato notizie molto interessanti. Twitter vuole andare in borsa, GTA è prossimo al debutto e da ultimo Microsoft con alcune indiscrezioni sui tablet Surface. Ecco il sommario. IDF 2013, il futuro della tecnologia secondo Intel. Twitter si prepara ad entrare in borsa. Apple rinnova la gamma smartphone, ecco i nuovi iPhone 5C e 5S. Arriva GTA V, il videogioco più costoso di sempre. Nuovi Surface 2, indiscrezioni aspettative per i tablet Microsoft di prossima generazione. Il Mosconi Center di San Francisco è la cornice abituale per l'IDF, l'InterDeveloper Forum, quella che è la conferenza di Intel destinata agli sviluppatori, ai propri partner e a tutte le persone impegnate all'interno dell'ecosistema del mondo di PC. Nell'edizione di quest'anno, tenuta signe i giorni scorsi a San Francisco, sono stati fatti molti annunci importanti. Due sono i temi principali. Il primo è quello dei prodotti cosiddetti 2 in 1, 2 in 1, nome nuovo che Intel vuole utilizzare per definire niente altro che le soluzioni ibride, cioè quei prodotti PC tipicamente che abbinano le caratteristiche tecniche di un tablet a quelle di un PC portatile tradizionale. Perché questo cambio di nome? È probabilmente una spinta marketing, la voglia dell'azienda di meglio promuovere queste soluzioni in abbinamento alle proprie architetture Haswell di nuova generazione. Altra importante novità dell'IDF è Bay Trail, nome in codice che identifica la piattaforma Intel a basso consumo che verrà utilizzata per una pletora di prodotti. Da un lato i modelli tablet e quindi le prossime generazioni di tablet Windows 8.1 e Android. Dall'altra tutta una serie di incarnazioni in soluzioni un po' più grandi che vanno da alcune tipologie di notebook ai desktop di dimensioni più piccole fino a soluzioni di impiego industriale, quindi pensiamo per esempio ai NASA, le soluzioni di storage domestico e non. Da ultimo segnaliamo come in questa edizione dell'IDF si è di fatto scomparso il termine desktop. Non si parla più dei tradizionali PC per utilizzo domestico o da ufficio, il tutto sostituito da varie tipologie di device mobile. E quindi il tempo di dire addio alle soluzioni tradizionali della famiglia Core non ancora, ma di certo il futuro va sempre più verso un ridimensionamento e sempre più lontano dai sistemi desktop tradizionali quali siamo abituati. Nel frattempo Twitter si prepara ad andare in borsa. Vediamo. Anche Twitter si prepara ad entrare in borsa. La popolare piattaforma di microblogging ha infatti annunciato di aver depositato presso la SEC tutta la documentazione necessaria per l'offerta pubblica iniziale e per la quotazione al Nise. Dal momento che il fatturato della società è inferiore a un miliardo di dollari, Twitter può usufruire di una procedura agevolata che non la obbliga a divulgare pubblicamente tutti i suoi dettagli finanziari. L'azienda, nata sette anni fa, è ora valutata sui mercati secondari tra i 10 e 14 miliardi di dollari, con i prezzi delle azioni che potrebbero collocarsi tra i 26 e i 28 dollari cada una. Il fatturato generato da Twitter è dovuto alle attività nel mondo pubblicitario. A tal proposito, l'azienda, per crescere e attrarre nuovi investitori, dovrà impegnarsi a migliorare i sistemi di targeting degli utenti e a trovare nuovi formati da vendere. Un primo passo in tal senso è già stato compiuto lo scorso lunedì con l'acquisizione di Mopub, una realtà che sviluppa strumenti di gestione dell'inventario pubblicitario, un'operazione che a Twitter è costata 350 milioni di dollari. Lasciamo adesso la parola a Davide che ci parla delle ultime novità nel mondo Apple. Nel corso della serata di martedì, il colosso di Cupertino Apple ha annunciato i terminali che caratterizzeranno la gamma smartphone della mela morsicata da qui al settembre del prossimo anno. Parliamo ovviamente di tanto vociferati iPhone 5C e 5S. Tra i due dispositivi, il più innovativo, non tanto per le caratteristiche hardware quanto per l'aspetto esteriore, è indubbiamente iPhone 5C. La nuova soluzione sostituisce in gamma l'attuale iPhone 5, si caratterizza per una scocca in policarbonato che possiamo reperire in ben 5 colorazioni differenti. Dal punto di vista hardware, i cambiamenti maggiori li troviamo invece in iPhone 5S che si caratterizza per il nuovo processore A7 a 64 bit, una fotocamera leggermente migliorata e, vera novità, il sensore di riconoscimento delle impronte digitali che sostituisce il classico tasto centrale. Ancora non abbiamo informazioni riguardo al lancio in Italia che potrebbe avvenire nel corso del prossimo mese di ottobre. Nessuna nuova anche per quanto riguarda il prezzo che però potrebbe partire da 629 euro per quanto riguarda iPhone 5C e 729 per iPhone 5S. Ora passiamo la parola a Rosario che dal suo angolo dei videogiochi ci parla del tanto atteso GTA V. Grazie Mr. Bean, ottimo lancio, congratulazioni. Il mondo dei videogiochi è in fibrillazione per l'uscita di Grand Theft Auto 5 che può diventare il videogioco più venduto di sempre. Ciò che colpisce del nuovo titolo di Rockstar sono le dimensioni del mondo di gioco. è stata svelata infatti la mappa di Los Santos che mostra un mondo di gioco 5 volte più grande rispetto a quello di Grand Theft Auto 4 mentre il solo agglomerato urbano di Los Santos è 2 volte più grande rispetto a Liberty City. GTA V è anche il videogioco più costoso di sempre visto che secondo fonti stampa ha richiesto un budget fra marketing e produzione di circa 200 milioni di euro che posiziona GTA V alle spalle solo di alcuni film come Avatar e Pirati dei Caraibi ai confini del mondo. Sulle pagine GameMag trovate anche le nuove informazioni a proposito della componente online Grand Theft Auto Online in termini di creazione dei personaggi e attività che si possono svolgere nel mondo di gioco e molto altro ancora ma GTA fa parlare di sé anche per le petizioni che fioccano intorno al fenomeno Rockstar dopo la petizione che chiede a gran voce la versione PC che ha raggiunto già le 340.000 firme c'è anche chi ha lanciato una petizione anti-PC. Non rilasciare GTA V servirebbe da insegnamento a tutti coloro che scaricano le copie illegali dei giochi dice chi ha dato il via alla nuova petizione. GTA V sarà disponibile dal 17 settembre mentre le recensioni andranno online a breve. Parliamo adesso delle ultime novità su Surface 2 e sugli ultimi tablet di Microsoft. Negli ultimi giorni molte indiscrezioni sulla prossima generazione di tablet Surface di Microsoft. I prodotti verranno presumibilmente annunciati verso la fine del mese con disponibilità nel corso del mese di ottobre. Che cosa avremo sul mercato? Avremo Surface 2 Pro e Surface 2 RT che probabilmente perderà il suffisso RT pur continuando ad essere basato sul sistema operativo Windows RT. Che cosa dovrebbe cambiare? Ma dal punto di vista esteriore poco o niente salvo il kickstand che probabilmente assumerà un sistema a due posizioni differenti. Le architetture di base tenderanno a cambiare. Per Surface RT troveremo Tegra 4 di Nvidia mentre per Surface 2 Pro troveremo una soluzione Intel della famiglia Aswell. Nuovi accessori sono previsti in arrivo. Il più interessante è una nuova tipologia di cover tastiera. Questa è la cover type. Avremo la cover power la quale permetterà di avere a disposizione una batteria addizionale e quindi migliorando l'autonomia complessiva di questo device. Si vociferà anche un modello Surface Mini basato quindi su uno schermo con diagonale di 8 pollici che dovrebbe andare a scontrarsi contro le moltissime soluzioni Android presenti sul mercato con un display da 7 pollici e contro Apple iPad Mini. Vedremo quali saranno le caratteristiche tecniche di questo prodotto e soprattutto se Microsoft con la seconda generazione di Surface sarà capace di ottenere un successo commerciale migliore rispetto a quanto ottenuto sino ad ora. Molte novità e molti annunci importanti questa settimana in TG Tech. Ma il mese di settembre si appresta ad essere un mese molto ricco in termini di annunci per quanto riguarda il nostro settore. Alla prossima settimana!